Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mistero sulla puntata di ieri della Volta Buona. La registrazione sparita da RaiPlay e la frecciatina di Caterina Balivo agli autori del programma. Durante il gioco telefonico, la conduttrice ha ammesso di non amare i quiz in tv, scatenando polemiche. Giuseppe Candela ha postato lo spezzone incriminato, sottolineando la mancanza di rispetto indiretta. I rapporti tesi dietro le quinte non sono una novità. Già lo scorso anno Balivo aveva manifestato il suo disagio. Nonostante i dubbi sulla riconferma nel palinsesto, la conduttrice è tornata in onda, ma i malumori nel backstage sembrano persistere. Grazie!